In attesa dell'inizio del campionato con il Parma, qui a Coverciano, quali sono intanto le sensazioni per una nuova vita del Parma? Le sensazioni sono ottime perché c'è stata una rinascita, c'è una società nuova molto seria e solida, c'è una tifoseria appassionatissima e quindi ci sono tutti gli ingredienti per poter tornare nel più breve tempo possibile dove il Parma merita di stare. L'esistente Scala non ci ha messo un secondo per convincerti? Ma no, non c'era neanche bisogno di convincermi perché forse io ero l'unico, fino a pochi giorni fa, l'unico giocatore sicuro di rimanere perché avevo detto a suo tempo che avrei voluto ricominciare col Parma e così è stato, quindi ripartiranno da me e questo mi inorgoglisce perché dopo tanti anni di Parma era la cosa che più volevo, quella di cercare di riportare quanto meno nei professionisti il Parma perché poi insomma un po' l'età si comincia a essere in su con gli anni quindi in campo riuscirò a incidere poco, però insomma l'obiettivo è quello di fare le cose fatte bene. Vincere in maniera trasparente è questo uno degli obiettivi del nuovo Parma? Sì, sì, come dice sempre Scala vuole un calcio biologico, più che altro un calcio gestito da persone serie cosa che negli ultimi anni di Parma purtroppo questo non è accaduto. Da Polloni ti aspetti un'impronta particolare, l'allenatore giusto per vincere subito il campionato? Sì, sono convinto di sì perché la nuova società si è circondata di persone che vogliono bene al Parma quindi ognuno nel suo settore specifico vuole che le cose vadano fatte per bene quindi come io in campo, a Polloni in panchina, a Minotti nella gestione tecnica, queste veramente sono garanzie.